Ciao ragazzi, piccolo sondaggio veloce veloce, vlog di fine stagione Oppure cono stradale Lo volete sì o no? Sondaggio qua sotto Pinzolo, ultima gara di stagione Sono in pulmino verso un allenamento molto tosto Programmato dal mio super allenatore Stefano Corradini Se non mi avete ancora fatto i complimenti per la performance di stagione Ci ha portato a casa Coppa di Specialità e Coppa Generale Insieme a Ricchi e il nostro maschio Alfa Buona visione Eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua Sulle nevi di Lavazze Sulle nevi di Lavazze Ultimi preparativi Ultimi preparativi Prima del fine stagione a Pinzolo Oggi abbiamo un ospite speciale Promettente fotografo della Val di Fiemme Proveniente da Castello Uno dei più promettenti fotografi di valle Luca Braito Oggi le riprese sono state fatte da lui Quindi godeteli questa meraviglia Grazie a tutti complimenti ancora una volta a Giovanni non so fare un vlog questo lo mettiamo su youtube come sono andate queste prove? vediamo un esemplare di malato di figa Matteo Ferrari ti sei stufato? no sono caduto questo è Matteo Cavallo lui è Luca Braito detto capo il nostro fotografo finalmente la donna barbutta è rimotta Matteo vlog niente siamo qua passo la vattene bellissimo posto prove stupende oggi questa perfetta buona 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 ma è bianca la tua panda? è anche io gialla ma no ma l'hai ridipinta ma cosa dici? era gialla ma va un sant'antonici era gialla Luca ridipinge le pavole problemi della vita la panda la panda è bianca o gialla ecco direttamente da Val Mawor è appena tornato da andare a far legna che filo bella ciao niente ragazze RickyBern14 su Instagram adesso è libero Ricky trattino a basso ecco lui è libero adesso quindi potete ad acchiapparlo anche lui Simone Mastro Battista seguitelo lui non seguitelo ha le peline ciao 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 non seguitelo tutto bene? andiamo Ale come è andata? scusa un attimo Olaf non ho senti non ho senti non ho senti buongiorno buongiorno l'alta gira lontino buongiorno buongiorno a tutti buongiorno caffè nostra autista è pronto non siamo partiti dietro di noi sempre in coda c'è Riccardo Bernardi che è venuto con il campiglio negli ultimi 4 ashtag room view dalla nostra camera good morning spettacolo fuori dalla nostra camera però lo spettacolo vero è qua dentro buongiorno 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 L'anno scorso abbiamo cambiato colore, ci siamo portati a casa un argento Andi in squadra ragazzi Ci fattono le riprese della gara Questa è una battaglia di Venezia Giulia E' una battaglia di Venezia Giulia Insieme, tutti in gruppo Guardate che spettacolo Guardatevi Perché siete davvero fantastici Allora 30 km Tour del gusto Tra tè verde Tè al frutti di bosco È stato molto bello Si era degustazione di te oggi Acqua amalto d'estrile Spettacolo l'abbiamo dato Primo giro davanti E lì E basta Io neanche quasi mi prenderò dei Fabiani La giornata è finita Finalmente Adesso si può andare a svegliare E cosa fate dopo? Cosa fate dopo? Bire e viceri La bira e una femmina Eh, una femmina purtroppo è vero Cheat Buono Basta Ciao Grazie a tutti ragazzi Chiude Ciao Grazie a tutti ragazzi eccoci ultimi ringraziamenti ci sarebbero troppe persone da ringraziare quindi faccio un grande grazie generale a tutti e un altro grazie a Luca Breiteo che oltre alle riprese si è occupato anche del montaggio nel suo studio tuning mi raccomando